Uno striscione con parole chiare e forti appeso al muro di Viale Ermocrate di fronte alla sede della Tecra, l'azienda che si occupa della nettezza urbana in città, subentrata all'Igm. A dire basta con una protesta sul posto è un gruppo di dipendenti di cooperative precedentemente accorpate all'Igm, lavoratori disperati che sperano da mesi in una possibile chiamata per riprendere la loro attività lavorativa. Ma oggi il movente che scatena la loro rabbia sono otto assunzioni, a loro dire, dopo ricerche e verifiche, frutto di favoritismi. Essenzialmente noi rivendichiamo il nostro diritto al lavoro, in quanto noi lavoravamo, siamo tre cooperative sociali, che lavoravamo per conto dell'Igm in subappalto. È subentrata Tecra, Tecra non vuole più le cooperative, siamo in mezzo a una strada. Da due mesi e mezzo non lavoriamo, ci hanno promesso e ripromesso che ci facevano lavorare, che comunque ci saremmo stati considerati. E invece, dico così, all'improvviso veniamo a sapere che su 60 persone ne sono state preassunte otto. E guarda caso tutte queste persone, e noi abbiamo qui un foglietto dove può dimostrare tutto, nomi, cognomi e tutto, che sono tutte persone, o nipoti, o figli di sindicalisti, o di altre persone. Insomma, si capisce che c'è qualcosa di poco chiaro. Noi vorremmo soltanto sapere e capire qual è il criterio, qual è stato il criterio di queste assunzioni, visto che non sono state fatte né graduatorie, né collochi e né nulla. Noi ci sentiamo presi in giro, noi vogliamo che questo schifo, perché secondo me è uno schifo, cessi finalmente e si facciano le cose per merito. E non perché quello è figlio di quello, perché chi ci ha comandato, perché quello si deve finire. Noi abbiamo bisogno, abbiamo famiglia, abbiamo bambini, abbiamo muto, lavoravamo, siamo in mezzo a una strada, siamo qua dalle 5 di mattina, vogliamo lavoro, vogliamo lavorare e cercheremo i nostri diritti fino all'estremo delle nostre forze, perché ormai siamo stanchi e decisi, decisi e determinati, basta. Quali sono le mansioni che voi andavate a praticare? Noi facevamo alla fine essenzialmente i lavori più umili, Nel senso, spazzaggio, pulire la fiera, il verde pubblico, noi abbiamo fatto di tutto e non abbiamo paura di nulla, facciamo la qualsiasi cosa. E invece questi che sono stati adesso presi, quali mansioni vandranno a svolgere? Le stesse, uguali, quindi ci sono soltanto chi è raccomandato e chi non è raccomandato. Noi siamo qua perché non siamo raccomandati, il succo è questo. Cosa chiedete stamattina? Di essere ricevuti da qualcuno per chiedere chiarimenti? Sì, essere ricevuti, comunque, quantomeno che qualcuno ci dica qualcosa, perché è stato fatto tutto sotto banco, noi non abbiamo saputo nulla, cioè nessuno ci ha detto niente, nessuno ci dice niente, nessuno ci dà spiegazioni e le cose si vengono a sapere così. Quali sono le vostre intenzioni, quindi le prossime mosse che volete mettere in atto? Allora, intanto stiamo organizzando una sorta di comitato dove l'intento è quello di raccogliere quante più firme possibili e allo stesso tempo ci vorremmo anche tutelare con un avvocato e fare le cose per bene, insomma, sollevare questo problema e più che altro noi vogliamo lavorare e noi non ci fermeremo fin quando non ci fanno lavorare.